Su Falco ha una storia molto particolare. Polanca si trovava alla fine degli anni Sessanta in vacanza in Francia quando sentì alla radio un pezzo che lo colpì molto. Si trattava di Conte d'Amitude dell'italo-francese Claude François che aveva riscritto il testo di un brano di scarso successo For Me di Jacques Vermouth. Ho prodiritti per una cifra irrisoria per poi riscriverne il testo ispirato da uno sfogo di Fran Sinatra che stava vivendo un periodo di crisi professionale. E' così che nacque My Way che oggi sentiamo dal nostro Michele Sgarbi con l'arrangiamento di Vladimir Beronoski per la banda città di Mantova Alessio Ortoni.